Questo schemino che io ho preparato per voi, se metto insieme il ciclo abbondante, da un lato ho l'anemia e la fatiga, l'astenia, la debolezza, la stanchezza persistente, dall'altro ansia e depressione e naturalmente la mestruazione dolorosa. Come facciamo la diagnosi? Molto semplice. Il primo stadio, la prima fase, è la bassa ferritina. Quindi con l'esame del sangue. Bravissima, esatto, semplice prelievo. Il secondo stadio è la bassa transferrina, il terzo stadio, la terza fase, è quando è basso anche il ferro plasmatico, cioè la sideremia. Dove va il ferro? Quanto ne abbiamo nel nostro organismo? Ne abbiamo 4-6 grammi, quindi mica chili. Dove si trova? 2 grammi si trova nell'emoglobina e poi ne abbiamo altre piccole quantità nella mioglobina, che sono componenti dei muscoli. Poi li abbiamo nelle nostre cellule spazzino, i macrofagi, il velo di milza, fegato e midollo. Ma molto importante è il ferro che si trova nel cervello, perché, come dicevo, è un oligoelemento, il ferro, essenziale per la sintesi di dopamina. Ma con poca dopamina ho meno voglia di vivere, meno entusiasmo, meno capacità di lavorare e di studiare, meno capacità di muovermi, sono sempre fiacca. Penso meno bene, perché la dopamina è anche nell'area del pensiero logico lineare, e adesso sappiamo che la dopamina è anche nell'ippocampo e quindi media la memoria. Quindi la carenza di ferro mi va a colpire quattro aree fondamentali del cervello. Qui non è che mi sento stanca psicologico, no, mi sento stanca perché mi manca la benzina, perché il mio cervello possa andare a mille. C'è una domanda fondamentale, perché il ferro significa energia? Capito? Il ferro significa energia. E significa energia perché noi abbiamo nel nostro corpo un sacco di proteine ed enzimi che contengono il ferro, che funzionano molto bene se siamo carenti di ferro. E quindi possiamo dire che certamente il ferro aiuta il nostro carburante biologico, che è l'emoglobina, ma anche la mioglobina che sta nei muscoli, e il nostro motore principe, che è il nostro cervello. Naturalmente, siccome faccio dottore, devo sempre dire che l'anemia non dipende solo dal ciclo abbondante, quello è la causa più specifica nella donna. In verità, quando abbiamo un'anemia da carenza di ferro, che cosa dobbiamo chiederci? Innanzitutto, com'è l'alimentazione? Per esempio, e purtroppo, la prima causa di anemia da carenza di ferro è la povertà. Perché ovviamente la carne costa, gli alimenti ricchi di ferro costano più degli altri, qui alla fine si mangiano pane, pizza o altre cose a basso costo, ma questo comporta un impoverimento cronico che è più grave se ho anche tante perdite da ciclo abbondante. Altra causa molto diffusa, le diete autogestite. Molte persone sono vegetariane o vegane, va benissimo, ma la dieta deve essere molto attenta ad avere comunque un'introduzione di ferro da altri alimenti, legumi, cereali, frutta secca con guscio, oppure avere un'integrazione due volte alla settimana con un supplemento di ferro, in modo che una persona possa fare il tipo di dieta che ama e che io rispetto profondamente, ma al contempo non avere poi un costo in salute che sul lungo termine può essere molto importante. La seconda grande causa è invece a livello dell'intestino ed è dovuta a un inadeguato assorbimento intestinale. Una causa frequente e poco conosciuta è proprio la gastrite da Helicobacter pyloris. Tutte le volte che sentite ite vuol dire infiammazione e le infiammazioni intestinali si associano a perdita di ferro nell'intestino. Se avete la colite, la sindrome dell'intestino irritabile, avete perdite anche e un minore assorbimento a livello intestinale, peggio che peggio se abbiamo la celiachia, che è una malattia dovuta proprio ad un'intolleranza grave al glutine, ma anche se abbiamo una gluten sensitivity. In tutte queste situazioni assorbiamo meno il ferro, quindi la mia dieta ne ha abbastanza, 18 mg al giorno, ma non lo assorbo o ne assorbo molto meno. La terza causa sono le perdite, quindi cicli abbondanti, ma anche e molto insidiose, per esempio le perdite gengivali. Se tutte le volte che mi lavo i denti ho un po' di perditine e me li lavo tre volte al giorno, alla fine del mese ho perso diversa quantità di globuli rossi e questo vale anche per le perdite da gastrite, le perdite intestinali o le perdite da emorroidi. Quindi grande attenzione, la perdita lì nella donna è il ciclo abbondante, ma attenzione che la goccia scava la roccia e la piccola perdita cronica mi causa l'anemia. Infine, quarta grande area, le situazioni di aumentato fabbisogno. Quando per esempio c'è la crescita, l'adolescenza, la gravidanza e il puerperio, grande bisogno di ferro perché abbiamo un piccolino che cresce da un ovetto fecondato, arriva a 3,5-4, con tutto, naturalmente il bisogno di ferro per tutte le proteine e gli enzimi che costruiscono la salute del piccolino e poi importante nelle sportive e negli sportivi perché assorbiamo meno il ferro con l'alimentazione e ne bruciamo di più. Quindi questi quattro fattori ci consentono, assunzione, assorbimento, perdite e varietà di fabbisogno, vanno a modulare il livello del nostro ferro nel sangue, nei tessuti, nel cervello, ma anche il livello di emoglobina che noi abbiamo. E quindi è importantissimo indagarle tutte e quattro queste aree perché evidentemente la terapia è tanto più efficace, quanto più noi andiamo a curare i diversi fattori che causano un impoverimento delle nostre riserve. Quando deve scattare il campanello d'allarme? Innanzitutto se il ciclo è abbondante, la prima cosa che mi devo chiedere è se l'alimentazione è adeguata e vedere come si sente. Come dico sempre, il sintomo è una richiesta d'aiuto. Se nonostante il ciclo abbondante, l'alimentazione è buona e la ragazza ha energia, si sente bene, corre, fa sport, è contenta, è allegra, soprattutto fa bene tutte le sue cose quotidiane e ha un'attività sportiva, si concentra, studia volentieri, non c'è problema. Vuol dire che ha un sistema che compensa molto bene. Se invece la vediamo sempre più stanca, triste, svogliata, ricorda con difficoltà, è irritabile, è aggressiva, che sono la faccia rumorosa della depressione, se ha un'alimentazione autogestita per cui non mangia la carne, mangia solo la mozzarella con l'insalata oppure le carote, poi ci sono questi periodi di monomania alimentari, ecco che in quel caso subito il medico con un emocromo, come ho detto, una ferritina, una sideremia, una transferrina se vogliamo essere proprio bravi, e un emocromo vediamo subito se quella è la situazione e comunque se il ciclo è abbondante proponiamo una pillola contracettiva, un progestinico, perché questo ci consente immediatamente di recuperare energie e di evitare che questa poverina si riducano a hamburgeri. Vedo a volte le ragazze che hanno 7 di emoglobina, ma non è possibile. La prima cosa da fare è valutare che non ci sia una componente in questa stanchezza molto più semplice da curare e da indirizzare che è l'anemia, tenendo presente che l'anemia ci dà anche dei sintomi a cui pensiamo poco, per esempio la sindrome delle gambe senza riposo. Per esempio, mi peggiora moltissimo l'anemia, le neuropatie e le parestesie in corso di chemioterapia. La gran parte delle pazienti, lo dico da oncologa, che sono in cura per tumori, con chemio, radio o chirurgie importanti, sono anche anemiche. Dare del ferro, se c'è carenza, è importantissimo. Addirittura pensate che l'anemia da carenza di ferro è un cofattore di osteoporosi. Quindi cosa qui noi non pensiamo, perché se noi vediamo che l'osso è bianco, pensiamo che serve il calcio, che certamente serve calcio, magnesio, vitamina D e quant'altro. Però, ricordiamoci che questi oligoelementi costruiscono la salute in maniera molto complessa e profonda, vorrei dire, e quindi una carenza si ripercuote poi in organi e tessuti a cui fino a pochi anni fa nemmeno pensavamo.